I ragazzi cucinano in questi tempi di crisi economica anche per chi spesso non può permettersi di mangiare. È il pranzo del cuore, un'iniziativa di Canosa di alcune famiglie di volontari. Giorgio Demetrio. Ogni nostro ragazzo non solo è informato e riceve competenze, ma è anche un ragazzo che deve aiutarsi nella vita futura con una sensibilità diversa, la solidarietà che lo accompagnerà per tutto il suo percorso. Passaggio di testimone per un giorno tra chi si occupa della preparazione dei pasti di Casa Francesco, la messa solidale delle parrocchie di Canosa. Gli studenti dell'Istituto Einaudi, indirizzo alberghiero, hanno preso il posto infatti dei volontari. Obiettivo? Assicurare un pasto e donare un sorriso a chi è stato più colpito dalle conseguenze sociali della pandemia. A quanti erano già in difficoltà e sono stati letteralmente messi in ginocchio dai riflessi materiali del Covid. A chi ha bisogno di un piatto caldo e soprattutto di attenzioni, delle premure di coloro che non trascurano chi è rimasto indietro, ancor più a Natale. E la prima edizione del Pranzo del Cuore, ragazzi in cucina per garantire 100 pasti da asporto che sono stati prelevati a Casa Francesco. Primi, secondi dolci accompagnati da 100 panettoni donati dall'azienda Pharma Labor. Abbiamo un'ottima sinergia con il mondo della scuola attraverso anche l'alternanza scuola-lavoro, attraverso tutte le iniziative che noi stiamo facendo per mettere insieme il mondo del lavoro con il mondo della scuola. Questa è un'iniziativa di persone di buona volontà per dare una mano a tutte le persone che hanno difficoltà, senza distinzione di sesso, di razza e anche di religione.